Mi ricorda che avevo malissimo ai polsi, avevo le gambe piene di lividi, avevo l'asservente interna e non ce l'avevo più. Quindi avevi pure le tue cose? Sì, non avevo più il reggiseno quando sono... Avevi dolori? Sì, sul momento stavo malissimo, se tu non puoi capire quanto stavo male, non riuscivo neanche a tenere gli occhi aperti, per un giorno non mi sono mossa dal letto. E il giorno dopo non ti ha rivolto la parola e niente? No, non mi ha neanche quello che mi faccia, non sono venuta la p***a e le schienze. Ma le ali quando tu gli hai detto di questa roba qua, si dramatizzava? Ma lui, sì, a parte che mi ha preso in giro perché avevo i libri. E ti diceva? Altri livelli, cioè altri livelli. In che senso altri livelli? Sì, chissà che cazzo avete fatto dire... Ah, alti livelli? Altri, cioè proprio qua raggiungiamo altri livelli. Ma ironico? Sì, sì, come una battuta. Ma non avevi visto in camera se c'erano delle catene, quelle robe lì? A me da quella camera mi hanno portata di peso fuori, di peso, perché non riuscivo neanche a camminare. Sì, dovevo essere stata proprio male. Mi sono spaventata.